Vediamo vanificato ad ogni cambio di orario con nuovi incrementi dei treni ad alta velocità lo sforzo della regione per dare ai pendolari toscani un trasporto pubblico su ferro sempre più qualificato. A dirlo è l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli davanti alla nuova introduzione da parte di RFI su richiesta dei gestori Trenitalia e Italo di ulteriori treni ad alta velocità sulla direttissima a scapito della regolarità dei treni pendolari toscani. Ceccarelli ha dunque inviato una nuova lettera di protesta all'autorità di regolazione dei trasporti chiedendo un incontro urgente. Sul caso del nuovo orario interviene anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli perché sarebbero state soppresse anche delle importanti corse del Frecciarossa che collegano Arezzo e Milano. Anziché fare polemica sui giornali ho preso carte penne, ho scritto all'amministratore delegato di Trenitalia lamentando il trattamento che è stato riservato alla città di Arezzo dove sono successi due fatti assolutamente poco gradevoli. È stato soppresso un treno, un frecciabianca proveniente dal nord la mattina e che proseguiva per Roma, quindi un servizio in meno, ma soprattutto vorrei ricordare che lo storico alta velocità, il Frecciarossa delle 7.25 la mattina che tantissimi, ma non soltanto parlamentari, persone che lavorano nell'ambito della politica, ma anche tanti lavoratori prendevano e che arrivava a Roma alle 9.20 e consentiva quindi di raggiungere la sede di lavoro in tempo utile, è stato allungato con un'ansa a chiusi che è una città importante ma insomma poteva essere destinato un servizio finalizzato solo a chiusi in maniera diversa e ora arriva a Roma alle 9 rendendone impossibile l'utilizzo da parte dei pendolari. Quindi questo è un trattamento che non è accettabile e in questi termini mi sono espresso. Non credo che cambierà granché da qui al rinnovo e alla pubblicizzazione del nuovo orario di Trenitalia, però comunque è una battuta d'arresto per la città. Spererei che in un futuro ci si ritornasse sopra.